Siamo al Teatro Comunale di Monfalcone con un ospite davvero d'eccezione. Tra i nomi che hanno fatto la storia della canzone d'autore italiana, sicuramente quello di Gino Paoli è uno dei più importanti. Innanzitutto, buonasera, innanzitutto come sta? Sta meglio? Abbastanza, sì. Che effetto le fa tornare a Monfalcone dopo tanti anni? Monfalcone che è la sua città natale. Beh, è abbastanza strano tutto. Nel senso che da una parte è bello perché in qualche maniera sei nel posto dove sei nato, quindi in fondo un po' di sensazione di casa c'è. D'altra parte ti ricordi tutti quelli che non ci sono più, perché io tutti i 14 agosto facevo un viaggio da qualsiasi parte. Forse una volta ero in Brasile, ma facevo quel viaggio per venire al compleanno di mia zia. E mia zia era una delle persone che ho amato molto. Vabbè, c'è la casa ancora lì che è abbandonata. Cioè, è un po' una sensazione di malinconia. Però d'altra parte è anche una sensazione di sentirsi un po' a casa. A proposito di sua zia, mi raccontava anche per l'intervista che abbiamo già fatto, insomma, che lei le raccontava a sua volta come eravamo un falcone un tempo. Mia zia era una specie di memoria orale molto importante perché raccontava le cose come le aveva viste uno dal vevo, non i racconti della stampa, di quelli che in qualche maniera equivocano sempre la realtà, perché invece di dare i fatti danno delle opinioni sempre, no? Un'opinione da una parte, un'opinione dall'altra, eccetera. Mia zia invece era una voce obiettiva che vedeva le cose per quello che erano. Delle cose buffe poi succedevano perché in fondo, per esempio, il fatto che gli italiani monfalconesi siano scappati perché arrivavano gli italiani quando i monfalconesi erano ancora a Austria e che scapparono e andarono profughi. In Austria, beh, sono cose che non si leggono, insomma, sono cose che mia zia ha vissuto, la fuga che ha fatto per andare a Trieste su un carretto con mio zio che tirava il carretto con un po' di beni. Sono tutte quelle cose che fanno parte di una realtà interessante da sapere e poi era bellissimo sentire raccontare a lei, perché poi lei aveva delle cose che, per esempio, dal confine in là erano tutti armeni, tutti armeni, i sé armeni. Mi ricordo una volta che si parlava della Jugoslavia quando si voleva intervenire in Jugoslavia perché succedevano questo e quell'altro, allora lei disse che gli ha sbagliato tutto, gli doveva lasciare che si coppasse tra le loro, che era una realtà abbastanza realistica, abbastanza spietata, ma realistica. Era una persona meravigliosa. Ha toccato tanti argomenti. Mi soffermerei un momento sul dramma dei profughi. Cosa ne pensiamo? Falcone è molto cambiata dai tempi in cui lei la frequentava. Credo, almeno per quel che ne so io, che i profughi non siano tornati in molti. E poi c'è stata invece la richiesta di lavoro perché Monfalcone era il cantiere di allestimento prima delle navi da guerra e poi delle navi normali. Infatti mio padre venne a Monfalcone perché era comandante di un sommergibile e venne per l'allestimento a Monfalcone, così che conobbe mia madre al circolo ufficiale. Ed era praticamente il cantiere si sviluppò molto. Quindi c'è bisogno di una mano d'opera e la mano d'opera venne tutta dal sud. E praticamente molte famiglie manfalconesi sono di riscindenti da gente del sud. Oggi invece cosa è cambiato? Ma oggi non lo so tanto quanto sia cambiato perché è un po' di anni che da quando è morta mia zia non vengo più. Però io trovo che sia una realtà sempre interessante a Monfalcone perché è un paese in fondo quasi di confine con tutte le contraddizioni del paese di confine. Tornando invece a parlare della sua musica e del concerto, di questa sera sul palco sarà Condalino Orea, grande pianista, grandi classici, in chiave innovativa. In che senso? Ma non lo so in che senso perché tutte le sere cambiamo tutto. Quindi non è una cosa che pensiamo. In fondo quello che succede lo crea un'atmosfera, un'atmosfera che è data dal pubblico, da me, dal posto dove siamo, eccetera. Quindi non è una cosa che posso prevedere e che posso spiegarle prima. So che è tutto infatti basato sull'improvvisazione. Certo, certo. Ma il jazz è questo. Il jazz, io non ho mai pensato che il jazz fosse suonare con delle battute ritmiche. Il jazz è interpretare le cose secondo te stesso. Cioè, che so io, Glenn Gould che suona Bach come vuole lui, è un jazzista. Cioè, interpreta Bach secondo la sua personalità. Quindi, jazz è tutto ciò che è improvvisato da una mente creativa e intelligente. Quindi, anche se lei e Danilo Rea avete già tre progetti seguiti insieme, ogni spettacolo è a sé stante. È assolutamente, sì. È assolutamente inventato ed è una maniera per divertirsi soprattutto. Al punto che, lo possiamo confermare, lei non fa prove prima dello spettacolo. Non hai fatto prove. Non ne ha bisogno? No, non mi piacciono le prove. Non ci resta che vedere lo spettacolo. Per chi non ha il biglietto, sarà per la prossima volta. La prossima volta. Va bene. Salutiamo i lettori del piccolo. Ciao. Arrivederci.